Sul friuli Venezia Giulia continueranno ancora condizioni di tempo estivo determinato dalla presenza di masse d'aria piuttosto calde su tutte le quote. La presenza di una depressione sul Mediterraneo orientale favorirà ancora delle correnti nord-orientali. Avremo pertanto cielo in prevalenza poco nuvoloso sia per la giornata di sabato che di domenica con la presenza di un po' di borino al mattino sulla costa che andrà poi attenuandosi nel corso della giornata. Nella giornata di domenica è possibile qualche locale rovescio, qualche locale temporale sulla zona montana per l'effetto di lieve instabilità atmosferica. Per quanto riguarda le temperature rimaniamo su valori alti, ben al di sopra della media del periodo, con massime che in pianura toccheranno anche i 31-32 gradi e intorno ai 30 gradi sulla costa. Rimarrà a tempo stabile con cielo poco nuvoloso anche i primi giorni della prossima settimana con temperature sempre piuttosto elevate. Dall'Osservatorio Meteorologico Regionale buon fine settimana a tutti.